Questa sera, nell'Anfiteatro di Conversano, in occasione del venticiquesimo anniversario dell'Associazione Amici degli Emigranti, si sono svolti i festeggiamenti. La serata, è stata condotta dalla giornalista Maria Liuzzi, durante la serata, il sindaco Giuseppe Lodascio, ha consegnato alcuni attestati di benimerenza, ed in particolare, la tessera di Presidente Onorario dell'Associazione al Presidente del Circolo Fratellanza Conversanese di New York, Missis Carmela Sibilano, in Prunella. Il Presidente Luca Panarelli, ha ringraziato ancora una volta tutti i cittadini conversanesi all'estero. Il gruppo musicale, Ipanema ha concluso la serata, con canti nazional popolari, e cabarelli. Servizio, a cura di Raffaele Prunella, Infotel, 333, 21, 64, 709. E-mail, sirgoartchiocciolalibero.it Grazie a tutti. Grazie a tutti.